ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai farmaci veterinari ti leggerai foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il farmaco veterinario pralen a cosa serve pralena un medicinale veterinario a base del principio attivo pranziquante il piume vendazolo appartenente alla categoria degli antielmintici e nello specifico derivati chinolinici e sostanze correlate è commercializzato in italia dall'azienda tecnofarma srl pralen può essere prescritto con ricetta sop medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco informazioni commerciali sulla prescrizione titolare tecnofarma srl concessionario tecnofarma srl ricetta sop medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco principio attivo pranziquante il piume vendazolo gruppo terapeutico antielmintici forma farmaceutica compressa confezioni pralen 12 compresse masticabili pralen 6 compresse masticabili pralen 70 compresse masticabili principio attivo una compressa contiene medendazolo micronizzato mg240 pranziquantel microincapsulato mg20 indicazioni trattamento delle infestazioni parassitarie del cane e del gatto sostenute da nematodi vermi tondi e cestodi vermi piatti gatto toxocaracati toxascaris leonina ancillostuma spp di pilidium caninum mesocestoides spp e chinococcus spp cane toxocaracanis toxascaris leonina ancillostuma caninum uncinari estenocefala strongilloides ster coralis tricuris vulpis tania ovis tania pisiformis tania idatigena tania multiceps di pilidium caninum mesocestoides spp e chinococcus spp posologia per uso orale una compressa ogni 8 kg di peso animale al giorno per due giorni consecutivi pari a 30 mg barra kg pvd e di medendazolo e 2,5 mg barra kg pvd e di pranziquantel arrotondare sempre il peso dell'animale il numero intero superiore la compressa agevolmente divisibile in quattro parti utilizzabili ognuna per trattare 2 kg di animale posizionare la compressa su una superficie piana con il lato recante le linee di frattura rivolto verso l'alto esercitare con il pollice una pressione al centro della compressa per ottenere la divisione in quattro quarti le compresse masticabili risultano appetibili agli animali vengono assunte spontaneamente salvorare eccezioni in questi casi possono essere sbriciolate ed incorporate in una piccola quantità di cibo gradito mescolate con crocchette durante il trattamento l'animale non perde vivacità n a copyright appetito avvertenze al fine di ottenere un efficace controllo dei parassiti il trattamento dovrebbe essere effettuato in base agli esiti dell'esame parassitologico sulle feci la resistenza di parassiti ad una particolare classe di antielmintici potrebbe svilupparsi a seguito dell'uso frequente e ripetuto di un antielmintico della stessa classe in caso di infestazioni da dipilidium caninum per prevenire la rinfestazione è necessario attuare adeguate misure di controllo sulle pulci che fungono da vettore precauzioni speciali per l'impiego negli animali non ha necessario somministrare purganti n a copyright far osservare il digiuno all'animale durante il trattamento a buona norma durante le sverminazioni somministrare agli animali pasti più alleggeri del solito è preferibile somministrare il farmaco a stomaco vuoto e contemporaneamente a poco cibo gradito con la somministrazione del prale in compresse secondo le modalità indicate si ottiene la totale scomparsa dei parassiti adulti per eliminare le forme larvali di anch'io ostomi e a scaridi è necessario ripetere il trattamento completo dopo 60 giorni per le infestazioni da scaridi e dopo 18 giorni per quelle da anch'io ostomi dal termine del primo trattamento già fin dalla prima somministrazione a inizio l'eliminazione dei parassiti la scomparsa completa delle uova sia di solito entro 10 15 giorni dall'ultima somministrazione pertanto l'esame delle feci per controllo dovrà essere effettuato dopo che sia trascorso il suddetto periodo di tempo durante il trattamento ed anche successivamente a necessario effettuare specialmente nei caniglio negli allevamenti le opportune operazioni di disinfestazione dei locali al fine di evitare le infestazioni inoltre a opportuno venga effettuata la denaturazione chimica delle feci espulse dai soggetti trattati al fine di interrompere la continuazione del ciclo parassitario fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato ciao ciao Grazie a tutti.